Professore Di Freddi, allora questa è una parola che fa paura, derivati, no? E immagino che a casa adesso siano... aiuto! Ma cosa c'è di matematico per spiegare un concetto che è puramente matematico, i derivati? Beh, tutto, anzitutto bisogna appunto non demonizzarli, come per esempio Fagrillo che abbiamo citato prima, il quale un giorno se ne è uscito appunto dicendo nessuno ci capisce niente e noi ce li impongono. No, no, si capiscono benissimo, però ovviamente bisogna conoscerli. La cosa interessante dei derivati è che risalgono addirittura a 2500 anni fa. Il primo che li ha fatti è stato Talete, quello del famoso teorema di cui adesso le chiedo l'enunciato, no? E Talete, no? Semplicemente si è accorto che in un anno ci sarebbe stato, ha previsto, ci sarebbe stato un grande raccolto di olive e quindi ha capito che i frantoi sarebbero stati appetibili e pagò in anticipo, diciamo così, l'assicurazione di poter affittare i frantoi se avesse voluto farlo poi quando fosse venuto il raccolto. E questi sono il primo derivato. I punti e i coli sono semplicemente il fatto di pagare oggi il diritto di vendere o di comprare domani. Se io continuo a fare un'assicurazione su un'assicurazione, è una catena di Sant'Antonio che non si spesa. E quello è il problema. Ecco perché siamo arrivati alla crisi del debito. Però vorrei sottolineare appunto... C'è l'assicuratore che è più bravo di chi si assicura e guadagna molto di più di chi si assicura e che si trova invece indebitato come i nostri comuni. Non solo per finire la frase però, cioè Black and Scholes che hanno trovato la formula per poi calcolare appunto il valore dei derivati, hanno preso il premio Nobel per l'economia. Non sono proprio... Sì, sì, no, no. La matematica dietro è solida. Ovviamente poi il modo in cui queste cose vengono applicate...